Gli Stati Uniti hanno imposto restrizione agli investimenti e all'esportazione su dozzine di aziende cinese, tra cui il principale produttore di droni DJI, che insieme ad altre sette entità sopporta attivamente la sorveglianza biometrica e il monitoraggio delle minoranze religiose in Cina, in particolare la minoranza uigura, prevalentemente musulmana, nello Xinjiang. Ai cittadini statunitensi è vietato acquistare o vendere determinati titoli quotati in borsa collegati a tali entità, spiega il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, immediato effetto su Wall Street e sulle borse asiatiche tutte in calo. Accuse gravissime, le società userebbero la tecnologia a scopo militare, comprese presunte armi per il controllo del cervello. Secondo il Dipartimento di Stato USA, gli Stati Uniti stanno inoltre aggiungendo 37 nuove entità all'elenco di chi ha agito contrariamente alle iniziative di sicurezza nazionale statunitense o di politica estera. Queste entità includono l'Accademia delle Scienze Mediche Militari e i suoi 11 istituti di ricerca, che si sono concentrati in Cina sull'utilizzo della biotecnologia per supportare l'esercito cinese. In base alle parole del Dipartimento ci sono serie preoccupazioni in questo senso, ontre al fatto che alcune delle aziende identificate hanno esportato tecnologie di sorveglianza in altri paesi, con scarsi risultati in materia di diritti umani.